Lorenzo Ginepri Eccolo qua, con la sua Copper Fisa Blu Mi sembra che tu abbia raggiunto qualche obiettivo, qualche trofeo interessante, cioè? Ho vinto gli internazionali a Verona, quest'anno Gli internazionali di fisarmonica a Verona, quest'anno, applauso No, perché si devono mettere d'accordo, quali ingredienti... Li riempiamo con gli applausi del pubblico Esatto, senza problemi Allora, siamo pronti, possiamo ascoltare? Un waltzer di pizzigoni, che si chiama Luci e Ombre Ne so, a pacchi Si vede che da 30 anni faccio dei giochi E la mazurka di Castellina, che si chiama Estiva Ora attacca Kletar, e vai! Aplausos 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.